Ed ecco Pantani ormai nel fondo a Repilino, occhio al Vittaccio. Stiamo assistendo sicuramente a tanti ribaltamenti in questo giro d'Italia. Ormai Vincenzo Nibali ha finito questo giro d'Italia. Vincenzo Nibali conquista la maglia rosa, Vincenzo Nibali finisce il giro d'Italia. Ma Michele Indurai, nuova maglia rosa. Pensate che Ino sarebbe diventato maglia rosa domani. Vincenzo Nibali finisce la tappa. Quindi due volte campione Bernardino in questa domanda. Non è studiata, non molla fino al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.